Dopo l'incontro di qualche settimana fa in aula consigliare con i rappresentanti delle attività produttive, questa mattina su iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale di Sciacca Ignazio Messina c'è stato un ulteriore momento dedicato alle problematiche che artigiani e commercianti saccensi stanno vivendo a causa degli esorbitanti aumenti dei costi energetici. Presidenza del Consiglio Comunale e organizzazioni di categoria hanno messo a punto un'iniziativa per sostenere le attività e provare ad alleviare le difficoltà. Si tratta di un atto di diffida contro gli aumenti che potranno sottoscrivere tutte le attività e che sarà trasmesso alle società di gestione del servizio e alla RERA. Noi vogliamo essere concreti come Consiglio Comunale, abbiamo dato continuità a quello che abbiamo detto delle organizzazioni di categoria che hanno partecipato, quindi abbiamo messo a punto una lettera di diffida da indirizzare all'autority per l'energia e quindi alla RERA che ha il controllo e alle società che erogano il servizio di energia, quindi sia luce che gas, per bloccare sulla base di una norma gli aumenti sulle bollette. Ovviamente questo per cercare di dare un minimo di fiato agli imprenditori che si trovano in enorme difficoltà, soprattutto nel settore del commercio che abbiamo coinvolto. Quindi sarà possibile sottoscrivere quest'atto di diffida sia presso gli uffici della Presidenza del Consiglio Comunale ma anche presso le organizzazioni di categoria e poi verranno inviate tutte insieme per fare da strumento di pressione e verrà portata a conoscenza anche al prefetto di Agrigento per far capire che dal territorio parte un'azione forte e un appello forte a che si possa sostenere le attività commerciali che sono il perno dell'economia ma di contro sono in enorme difficoltà e a rischio chiusura. Come si diceva l'iniziativa è stata assunta dalla Presidenza del Consiglio Comunale insieme alle organizzazioni di categoria. Può rappresentare una speranza di poter proseguire la propria attività in questo momento perché abbiamo numero alla mano una serie di attività che hanno già retizzato le bollette precedenti, dei mesi precedenti. A richiesta nuova di retizzazione per la bolletta prossima c'è una negazione da parte di quasi tutti i gestori e quindi l'impossibilità a poter ottemperare il pagamento significa che dopo 40 giorni comincia ad avvenire il cosiddetto distacco, prima la riduzione poi il distacco delle utenze sia di energia elettrica che di gas. Questo documento è un tentativo che dà l'opportunità a chi ha queste difficoltà naturalmente di poter inviare una comunicazione al proprio ente gestore e all'autorità della garante per dire ok però guardiamo se realmente quello che devo pagare è dovuto, se ci sono variazioni contrattuali e regolari o meno e questo comunque non fa altro che aprire una sorta di contenzioso che comunque dovrà avere una risposta. In questo lasso di tempo non si potrà avere nessuna sospensione da parte dell'ente gestore e tantomeno la bolletta pagare diventa invece sospesa fino a quando non ci sarà una comunicazione ufficiale. Abbiamo aderito fino alla prima ora perché anche se può sembrare un fatto simbolico la diffida comunque è certamente un momento di protesta ma anche di proposta. Il tema non è oggi la diffida che quindi è un'iniziativa che noi intendiamo perseguire attraverso la divulgazione dei nostri interni, dei nostri uffici e la disponibilità che ha messo anche la Presidenza del Consiglio. Il tema è che stiamo vivendo un momento assai drammatico, difficile per le imprese, ormai lo ripetiamo in tutte le salse, abbiamo anche la preoccupazione che questo possa sfociare anche e temiamo anche l'ordine pubblico e ci auguriamo che da subito il Governo nazionale che auspichiamo che possa nascere entro la prossima settimana possa già da subito mettere un freno a quello che è il caro Borletto e il caro Energie. Non solo artigiani e commercianti, l'iniziativa di oggi è stata assunta anche insieme a Centro Consumatori Italia e Spazio Centro. Sono delle iniziative che comunque cercano di sollevare un problema, un problema che è drammatico perché da qua a pochissimo tempo continuando di questo passo con questa speculazione e ribadiamo speculazione perché di fatto non ci sono le giustificazioni per questo rialzo dei prezzi sia dell'energia sia delle materie prime, saremo in una situazione da Repubblica di Weimar e a questo punto bisogna praticamente attivarsi tutti, scendere in piazza tutti, fermare tutto e dire no a questa speculazione finanziaria internazionale sui beni di prima necessità. La gran parte di negozi che appartengono a Spazio Centro, noi non abbiamo associati forni o pizzerie o quant'altro, siamo tutti abbigliamento, articoli dal regalo e quant'altro, non la stiamo vedendo come bolletta esorbitante ma sicuramente ci sarà una ricaduta grossa nei prossimi mesi come già è partita nella mancanza dei consumi della clientela perché se la clientela arrivandoci la bolletta esorbitante è chiaro che i soldi a disposizione delle famiglie sono sempre le stesse in questo caso diminuiscono e diminuiscono gli acquisti. Ora sicuramente queste sono iniziative che vanno fatte e accettiamo di buon grado queste iniziative che si stanno svolgendo. Grazie a tutti.